La prossima rivoluzione potrebbe cominciare con un po' di colla e dei tubi in PVC. Sono gli oggetti usati dal gruppo hacker HACDC per costruire un'antenna che dà un collegamento internet a questo quartiere di Washington. Stiamo creando un'internet alternativa locale, dice uno dei membri Ben, più affidabile se ci fosse un'emergenza e le infrastrutture crollassero, oppure se venissero spente con la forza. Il gruppo infatti lavora con la prestigiosa associazione New American Foundation al progetto Commotion, finanziato con milioni di dollari anche dal Dipartimento di Stato americano. È un software open source per costruire network liberi da ogni controllo, fondamentali per chi usa internet in paesi governati da regimi. L'anonimato e la criptografia sono una parte importante di Commotion, dice Preston Rea, programmatore, perché si tratta di aiutare le persone a comunicare come vogliono, senza che le loro parole vengano usate contro di loro. Commotion è stato sperimentato in alcune zone, ma non è ancora pronto per essere provato in aree a grande rischio come la Siria. Eppure, come dice Sasha Mayrath, ex militante della Rete Libera, ora capo del progetto, è proprio in questi luoghi che questa nuova tecnologia avrà un impatto dirompente.